Parlo, presento la presentazione io, poi eventualmente se la dottoressa Maier alla fine vuole integrare qualcosa, benvenuta, ci siamo organizzate così. Buongiorno, saluto se mi sentite, sono Silvia Maier, abbiamo concordato che la presentazione sarà fatta comunque a una voce, io sono qua, sono fuori sede quindi sono un po' con qualche difficoltà in più a intervenire, non so neanche se funziona la telecamera, lascio la parola a Isabella, grazie. Perfetto, vi ringraziamo. Benissimo, allora vedete la presentazione? Sì, vediamo, se può metterla in presentazione. In modalità presentazione, così? No, vediamo prima. No, la vedo in modalità presentazione. In basso sulla destra, comunque per noi va bene anche così. Benissimo, sì. Allora, grazie per avermi introdotto, quindi appunto ripeto, sono Isabella Pasutto della Direzione Uffici Territoriali per il dissesto idrogeologico che attualmente è la struttura competente in materia forestale e appunto lavoro presso l'unità organizzativa Foreste e Selvicoltura. Allora, io ho visto che la platea dei partecipanti è un po' variegata, ho visto anche addirittura numerosi colleghi, per cui insomma io cercherò di adottare un linguaggio abbastanza semplice, non eccessivamente tecnico. E se poi ci sono delle domande, se volete interrompermi anche in corso di esposizione oppure lasciamo gli interventi alla fine, come ho visto fare con la precedente esposizione. Quindi, allora, parlando di bosco, la prima domanda, cioè la prima evidenza da fare è a quanto ammonta la superficie boscata nella regione Veneto e di fatto noi abbiamo un dato che deriva dalla carta forestale regionale che ormai diciamo piuttosto datata perché risale al 2005, che ci riportava un dato intorno, vedete, ai 413 mila ettari di superficie boscata. Non so se bisogna andare avanti la diapositiva perché siamo fermi sulla prima. Ma non capisco perché io vedo la seconda. Per caso ho un doppio schermo? Ho lo schermo del computer. Ok, provi a uscire un attimo dalla modalità presentazione. Ricondivida lo schermo. Ricondivida lo schermo. Non mi è mai successo, non capisco. Io vedo la seconda diapositiva adesso. Ora vediamo la seconda, sì. Esatto. La vedete anche voi? Perfetto. Allora forse è meglio che resto così. Esatto. Ok, benissimo. Ecco allora dicevamo il dato del 2005. Poi diciamo che una fonte nazionale che è l'inventario nazionale delle foreste dei serbatoi di carbonio invece ci dà per il 2015 già una superficie che arriva ai 470 mila ettari. E recenti altri dati presenti da Eurostat e altre fonti di informazione ad oggi danno addirittura un valore di 480 mila ettari. Per cui possiamo dire appunto che la superficie forestale è in continuo aumento e diciamo che nel corso degli anni, vedete dagli anni 40 in poi, si è proprio osservato questa costante espansione del bosco. dovuta nella prima fase, cioè tra gli anni 40 e 80, a due fenomeni sostanzialmente. Il primo fenomeno è stata l'azione di estesi rimboschimenti artificiali portati avanti dal corpo forestale dello Stato negli anni successivi alle guerre mondiali. E nella seconda fase, cioè partiamo dagli anni 60 in poi, invece, è dovuto al mutamento delle condizioni socio-economiche delle aree pedemontane e montane. Sappiamo benissimo condizioni variate che hanno portato quindi all'abbandono dell'attività agricola e zootecnica a favore appunto della superficie buscata. Secondo, poi vedete che l'andamento comincia un po' a rallentare, secondo recenti proiezioni, effettivamente noi prevediamo un'ulteriore progressiva espansione, però si sta giustamente verificandosi il fatto che c'è una progressiva saturazione delle terre messe a disposizione, per cui soprattutto ovviamente nei territori montani. Per cui i territori che forse saranno ancora colonizzati dal bosco saranno prevalentemente quelli della fascia collinare e basso-montana, cioè tra i 300 e i 600 metri di altitudine. Ecco, considerato che in pianura abbiamo una forte urbanizzazione degli interessi diversi e la montagna appunto risulta quasi totalmente boscata. Volevo solo evidenziare che il valore del 2015 è inferiore a quello visto nell'inventario nazionale, i dati che vi ho dato, perché l'inventario nazionale considera non solo bosco in quanto tale, cioè definibile come bosco, ma tutte le terre boscate. Poi capiremo meglio questa differenza per chi non è addetto ai lavori. Allora, un quadro di quelle che sono le tipologie forestali più frequenti nel Veneto. La leggenda probabilmente non si vede, ma fate attenzione più o meno ai colori. La fascia del rosa antico coincide con gli orno ostrieti e ostri o querceti, che di fatto quindi rappresentano la tipologia forestale più frequente nella regione Veneto. Le chiazze di marron scuro evidenziano i castagnetti, castagnetti intesi come bosco. La fascia del verde, vedete verde brillante, coincide con le faggete e la faggeta è la seconda tipologia forestale più frequente nel Veneto, per poi andare sempre più verso nord della provincia di Belluno o di quella di Vicenza, dove compaiono invece le formazioni con conifere, e quindi la presenza senz'altro più rilevante dell'abete rosso, per cui pecete di abete rosso, e poi formazioni diciamo di pino silvestro, quelle che vedete in rosa fucsia. Il rosa più chiaro intorno al fucsia, vedete, sono le mughete e così via, l'arici cembretti, eccetera. Un'altra cosa che voglio far presente è che la superficie forestale nel Veneto è prevalentemente di tipo privato, quindi privato coincide con il colore arancione, che vedete un po' sparpagliato per tutta l'area su tutto il territorio montano, privato singolo, l'arancione, e privato collettivo, cioè quel colore verde che coincide appunto con le proprietà delle regole e comunioni familiari. La parte pubblica ovviamente riguarda comune, demanio statale e demanio regionale. Allora, vediamo brevemente il contesto normativo di riferimento. Quando parliamo di gestione forestale, selvicoltura, settore forestale, queste sono di fatto le norme più importanti e vigenti attualmente, sia a livello nazionale che regionale. Allora, il primo, vedete, il reggio decreto 3.267, che risale addirittura al 1923, noto a noi forestali come legge Serpieri, ha costituito, costituisce di fatto, ha costituito, costituisce tuttora, la prima legge forestale italiana che possiamo dire ha ispirato tutta la legislazione forestale successiva, soprattutto quella regionale. La legge Serpieri ha istituito il vincolo idrogeologico, sostanzialmente, che è un vincolo che poi ha imposto a determinati contesti territoriali al fine proprio di evitare la denudazione dei terreni, la perdita della loro stabilità e l'alterazione del regime delle acque, sostanzialmente. Quindi è una legge che ha cercato, nonostante sia datata, è stata molto, diciamo, lungimirante, perché cerca di conciliare in modo anche abbastanza articolato la funzione protettiva del bosco, in riferimento, quindi, dicevamo, alla prevenzione del dissesto idrogeologico, con quella produttiva, sostanzialmente, che va, che è la funzione, diciamo, che deve comunque salvaguardare il diritto di proprietà, soprattutto privata, che abbiamo visto essere dominante, e quindi con il fatto di soddisfare le esigenze economiche, quindi, dei proprietari. E infatti, diciamo, il reggio decreto norma per la prima volta il diritto di proprietà su terreni forestali, nel senso, introduce una serie di vincoli e limitazioni, perché il bosco ha funzione prevalentemente protettiva e di equilibrio idrogeologico del territorio. Il proprietario ha i suoi diritti, ma deve, in qualche modo, adottare forme corrette di governo del bene bosco. E quindi, ci sono tutta una serie di questi vincoli e limitazioni. Allora, di fatto, poi, cos'è successo a livello statale? Noi ricordiamo, insomma, lo ricorderete anche voi, che nel 1977 lo Stato ha trasferito alle regioni, proprio la gestione forestale, quindi, in materia proprio di territori montani, foreste, proprietà forestali, sono transitate, le competenze sono transitate alla regione. Ed è per questo che nel 1978 è stata formulata la legge forestale regionale, che abbiamo cercato di fatto diverse volte di portare ad un aggiornamento definitivo di questa normativa, però non c'è mai stata quindi forse una vera volontà, per cui la legge forestale è datata, però è stata successivamente ovviamente aggiornata in modo tale da mantenere e da garantire la coerenza evidentemente con l'evoluzione normativa nazionale ed internazionale in materia forestale, per cui diciamo che ad oggi risente in qualche punto della sua adattazione, ma di fatto grazie ai vari emendamenti è comunque una legge che garantisce la tutela del patrimonio boscato e quindi estremamente funzionante e vigente. La legge forestale regionale si è portata dietro ovviamente la costituzione del regolamento attuativo che era previsto nel reggio decreto, per cui proprio l'elaborazione delle prescrizioni di massima e polizia forestale, che sono le norme di gestione dei boschi, che hanno subito quest'ultima revisione nel febbraio del 2020 e il regolamento 2. E di fatto mentre il reggio decreto normava solo la parte di vincolo idrogeologico, le prescrizioni di massima invece polizia forestale sono state invece estese a tutti i boschi della regione Veneto, indipendentemente quindi dalla presenza o meno del vincolo. Poi a livello nazionale a un certo punto quindi non dico dal 1923 ma già nel 2001 con il decreto legislativo 227 che forse appunto vi ricordate e successivamente però con l'emanazione del decreto legislativo 34 nel 2018 quindi quasi una quarantina d'anni dopo il trasferimento alle regioni lo Stato in qualche modo non dico che si riappropria ma cerca di normare nuovamente le disposizioni appunto normare il settore forestale in quanto diciamo nel testo unico il patrimonio forestale nazionale viene riconosciuto come parte del capitale naturale che era stato definito in una legge se vi ricordate del 2015 mi pare che sia la 221 perché capitale naturale di rilevante interesse pubblico e quindi da tutelare e da valorizzare ovviamente per le generazioni attuali ma anche per le future il concetto di sostenibilità che vedremo anche in seguito quindi allora il testo unico perché lo Stato improvvisamente dice torniamo ad emanare una norma nazionale forestale perché di fatto la gestione forestale portata avanti nel corso degli anni 70 80 e 90 da parte delle singole regioni ha di fatto portato a norme regionali che potevano essere anche molto diverse una dall'altra cioè ci si è resi conto che mancava un quadro normativo uniforme a livello nazionale e quindi c'era una certa difficoltà di parlare di foreste o dello Stato delle foreste della conservazione o delle norme di tutela forestale con l'Unione Europea con norme internazionali e così via quindi il fatto di voler diciamo recuperare un quadro normativo omogeneo serve anche ad avere una serie di dati e di informazioni quando devono essere forniti diciamo nel contesto europeo mi viene in mente ad esempio quando si parla della disciplina europea dei tagli illegali l'European Timber Regulation ecco e cose del genere l'assenza di una norma nazionale sembrava dire ok in Italia l'Italia vive di tagli illegali la cosa che è assolutamente non vera e quindi ecco da proprio è stato necessario quindi ribadire e rivedere la norma poi farò un breve riferimento anche al codice del paesaggio che comunque nel corso di questo programma formativo avrete già sentito nominare ovviamente lo conoscete meglio di me probabilmente comunque ricordo che il decreto legislativo 42 quindi estende a tutte le aree boscate la tutela paesaggistica facendo salva se vogliamo sia cioè facendo salva sia la tutela specifica rivolta a determinati luoghi località di particolare pregio estetico che derivano dalla legge 1497 del 39 relativa quindi alla protezione delle bellezze naturali e questa disposizione la si legge nell'ambito dell'articolo 136 del codice urbani e inoltre fa propria anche la tutela ex legis delle superfici boscate in quanto tali proprie della legge Galasso e questo riferimento lo troviamo nell'ambito dell'articolo 142 poi vedremo la differenza e poi farò brevemente una presentazione di quella che poi è anche un documento molto importante a livello regionale che è il prontuario operativo per interventi di gestione forestale e arriverò un po' a dimostrarvi le mie conclusioni perché arriviamo a determinate considerazioni finali ecco allora il testo unico lo vediamo solo in base alla definizione solo per quanto riguarda l'aspetto della definizione di Bosco poiché uno degli aggiornamenti che ha subito la legge forestale regionale l'ultimo risale al 2021 quando c'è stato quel collegato alla finanziaria che ha permesso proprio di rivedere parecchi testi normativi mi ricordo che c'erano diversi aggiornamenti del settore anche agricolo e non solo forestale ecco e la legge regionale mi pare che sia la 17 del 2021 ha praticamente fatto sì che la definizione di Bosco a livello regionale si uniforma praticamente a quella statale quindi in regione Veneto quello che è Bosco per lo Stato lo è anche per la regione questo di fatto allora l'articolo 3 del decreto legislativo 34 ci dice che sono boschi le superfici coperte da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella argustiva di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo però che rispondano a questi requisiti cioè non devono essere inferiori ai 2000 metri quadrati di ampiezza avere una larghezza nel caso di formazioni pensiamo a quelle lineari una larghezza che non sia inferiore ai 20 metri e una percentuale di copertura che sia superiore al 20% questo è bosco articolo 3 articolo 4 del testo unico ci evidenzia anche tutte le aree che sono assimilate a bosco che però per motivi vari potrebbero non avere le caratteristiche riportate all'articolo 3 comma 3 e quindi ci sono tutta una serie di possibilità io vi parlo ad esempio cioè la formazione vegetale per esempio di specie arbore o arbustive in qualsiasi stadio di sviluppo riconosciute dalla normativa vigente regionale quindi nel nostro caso sono bosco per dire le mughete che sono arbustive non sono formazioni arbore consociate ok le mughete le alnete di ontano verde i noccioleti cioè i corileti ecco comunque le formazioni a nocciolo sono tutte riconosciuti come bosco poi ci sono i fondi gravati da obblighi di rimboschimento per esempio per qualsiasi finalità ambientale boschi che sono stati creati in conseguenza agli obblighi di intervento compensativo cosa vuol dire noi sappiamo che per autorizzare una riduzione di superficie boscata la norma richiede che venga che questa superficie boscata diciamo eliminata venga compensata cioè si porti a realizzare un nuovo bosco da un'altra parte oppure si può procedere al miglioramento di una superficie doppia di bosco già esistente comunque il bosco creato dall'obbligo di intervento quindi compensativo è un bosco a tutti gli effetti poi vista anche la recente situazione di Vaia e poi degli attacchi di Bostrico in corso di cui ne avrete sentito certamente parlare il vincolo forestale permane anche su tutte le aree schiantate da danni quindi di avversità in questo caso abiotica inizialmente cioè schianti quindi da vento potrebbero essere anche schianti da neve incendi e così via e da danni di avversità abiotiche mantengono la definizione di bosco e poi ci sono le radure per esempio all'interno del bosco che hanno un'estensione inferiore ai 2000 metri quadrati queste non interrompono la definizione del bosco intorno cioè fanno parte quindi dell'area boscata di riferimento questo è molto importante perché cerchiamo di capire cosa resta bosco e cosa no perché ovviamente poi avremo le considerazioni che vedremo successivamente quando parleremo del codice urbani allora ecco una foto per farvi vedere l'area che completamente schiantata qui era ancora da esboscare una volta esboscata apparentemente potrebbe sembrare che il bosco non esiste più in realtà permane il vincolo forestale a tutti gli effetti poi il testo unico introduce anche un articolo piuttosto innovativo che era stato solamente diciamo in parte accennato nel decreto legislativo 227 nel 2001 lo diciamo lo amplifica lo dettaglia meglio perché dice dà anche una classificazione a tutte quelle aree che sono caratterizzate da presenza di piante di alberi arbusti eccetera però sono escluse dalla definizione di bosco ed ecco perché capite forse quello che vi ho detto all'inizio dei dati dell'inventario nazionale delle foreste dei serbatoi di carbonio che riportava superfici più alte perché perché considerano bosco non solo le aree ricadenti quindi nell'articoli 3 e 4 del decreto legislativo ma anche annoverano come superficie boscata anche quelle che in realtà sono escluse dalla definizione di bosco e che ricadono proprio in questo articolo 5 quindi le formazioni di origine cosa abbiamo di escluso di fatto sono le formazioni di origine artificiali che sono state create che vengono realizzate su terreni agricole a seguito di diverse forme di contribuzione previste anche quelle dei regolamenti della politica agricola comune che si mirano soprattutto alla costituzione di varie tipologie di impianti di arboricoltura da legno e anche di impianti cosiddetti poi nei bandi permanenti però bisogna capire appunto questo concetto di permanenza quanto dura e se effettivamente cioè è un obbligo di vincere un obbligo e un riconoscimento di bosco vero e proprio o meno qui si apre una parentesi eccessivamente grande che lascio perdere perché insomma molto spesso facciamo fatica anche noi forestali ad oggi a capire effettivamente quando il vincolo forestale dovrebbe esserci e deve esserci e si genera e quando invece questo in realtà non è così automatico ecco poi abbiamo le tartufaie cioè non solo quindi l'arboricoltura da legno ma anche l'arboricoltura che serve a produrre frutti o funghi tartufi castagnetti in attualità di coltura noccioletti sono non sono bosco non sono boschi i parchi i giardini le alberature stradali le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale vedete ovviamente tutte le frutti colture ma anche siepi filari che hanno una larghezza dicevamo che presentano una larghezza che arriva fino ai 19,99 metri sostanzialmente e poi non sono bosco neanche le aree che potrebbero essere soggetti a misure di eradicazione in riferimento al regolamento che norma l'eliminazione delle specie esotiche aliene invasive quindi quando hai appunto formazioni di specie invasive come potrebbe essere la robinia l'ailanto eccetera queste formazioni non possono essere considerate bosco ecco vi faccio vedere appunto una foto per dire quando siamo di fronte all'arboricoltura da legno ovviamente abbiamo un sesto di impianto vedete particolarmente ampio e quindi una densità di copertura cioè densità di piante per ettaro che normalmente è piuttosto bassa rispetto a una superficie boscata vera e propria la conformazione perline vedete perfettamente rette così parallele ecco questo è un tipico piopeto questo siamo invece in un castagnetto di attualità in attualità di coltura poi c'è anche da dire che c'è un ulteriore comma all'articolo 5 che è il numero 2 dove si dice che sono escluse dalla definizione di bosco però anche le specie le formazioni di specie arboreo arbustive che si sono originate a seguito dell'abbandono di preesistenti attività agropastorali e che siano riconosciute meritevoli di tutela e ripristino e anche situazioni dove sono evidenti dei manufatti o dei muretti a secco terrazzamenti cose che dimostrano come appunto nell'epoca passata ci sia stata l'attività agricola e che poi sia stata abbandonata ovviamente in questo caso il proprietario deve presentare formalmente deve fare una richiesta di recupero agronomico e solo nel momento in cui questa richiesta viene approvata autorizzata dall'autorità competente queste formazioni non sono più considerate bosco per cui anche in questo caso si esula da qualsiasi aspetto o autorizzazione di tipo paesaggistico questo è un esempio di terrazzamenti vedete in base da questa vegetazione arborea gustiva dove apparentemente si potrebbe sembrare un bosco ma che in realtà insomma con una procedura anche abbastanza semplificata si può dimostrare il contrario ecco qua allora passando al codice del paesaggio vediamo come il bosco abbiamo detto rientra sia nell'articolo 236 quindi inteso come area di notevole interesse pubblico qui abbiamo le formazioni decretate con decreti ministeriali in particolar modo lo troviamo alla lettera A e alla lettera D quindi alla lettera A potrebbero esserci boschi vincolati proprio in quanto tali cioè boschi che hanno una certa magari importanza storico culturale o una certa qual bellezza insomma è stato vincolato specificatamente quel determinato popolamento mentre nella lettera D noi troviamo il bosco in quanto compare come bel vedere nel senso una bellezza panoramica allora vincoli di questo tipo ce li abbiamo per esempio all'interno di vallate come il comelico dove da un punto di vista cioè da un punto panoramico di vista tu puoi godere della bellezza del bosco ma questo potrebbe essere anche interrotto dal villaggio dal lago e quindi viene tutelato un po' il cono visuale ecco nel suo complesso e poi come dicevamo l'articolo 142 ha fatto proprio la legge galasso per cui dice che tutti i territori coperti da foreste e da boschi qui c'è un'imprecisione perché in realtà foreste e da boschi è un sinonimo quindi i territori boscati ancorché percorsi o danneggiati abbiamo visto che comunque vige il vincolo forestale anche se il bosco in realtà non c'è più in determinati contesti sono tutelati per leggi quindi come definito qui il codice urbani riporta ancora il vecchio regolamento però ora dovremo sostituirlo così come definiti dagli articoli che vi ho mostrato prima cioè 3 e 4 del decreto legislativo 34 del 2018 e cosa si dice successivamente all'articolo 149 si parla di interventi che sostanzialmente non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica allora noi troviamo l'attività selvicolturale in modo un po' ambiguo secondo me alla lettera B perché si parla di interventi agro silvopastorali che non comportano alterazione permanente dello stato dei luoghi e qua nessun intervento selvicolturale a meno che non sia una riduzione di superficie boscata ripeto e quello lì deve essere autorizzato paesaggisticamente noi non alteriamo in modo permanente lo stato dei luoghi non lo alteriamo neanche alla lettera C per cui sarebbe stato corretto dire alla lettera B interventi agropastorali e alla lettera C interventi silvicoli non lo so ecco comunque c'è questo doppione che spesso non è stato chiaro insomma allora alla lettera C si dice che comunque sono esenti da autorizzazione paesaggistica i tagli culturali nei boschi purché previsti e autorizzati in base alla normativa in materia e si fa riferimento esclusivo ai boschi che sono indicati all'articolo 142 quindi non quelli del 136 ovviamente allora il codice urbani ha detto i tagli culturali sono esenti da paesaggistica benissimo immediatamente sono state adeguate le prescrizioni di massima e polizia forestale ancora prima non parlo dell'ultima revisione del 2020 che vi ho fatto vedere prima ma addirittura mi sembra due o tre anni successivi dopo l'entrata in vigore del codice urbani quindi del 2005 2006 la prima modifica le prescrizioni di massima ha riguardato proprio l'inserimento di una definizione di che cos'è taglio culturale ai sensi della normativa in materia cioè della normativa forestale e questo ci dice l'articolo dice che sono tagli culturali vedete più o meno tutti gli interventi di gestione forestale sostanzialmente cioè non solo i tagli di coltivazione intesi quelli a maturità in cedue fustaie che ne garantiscono la perpetuazione garantiscono la multifunzionalità richiesta a un determinato popolamento forestale ma anche tutta una serie di situazioni intermedie vedete come possono essere le conversioni cioè il passaggio da ceduo a fustaia i tagli raso nei limiti di cui all'articolo 7 del testo unico che poi vedremo qual è tagli fitosanitari tagli con essi a ripristi sopra suoli danneggiati eccetera eccetera interventi da effettuarsi allo scopo di rinnovare le specie soprattutto se queste sono di tipo appunto alieno esotiche per riportare quindi la cenosi forestale adatta invece alla stazione al contesto dove si trova gli interventi di ripuliture sfoli di radamenti e tutto quello che concerne appunto la riduzione del rischio e la sicurezza della pubblica incolumità cioè infrastrutture strade case eccetera sono tutti tagli per l'appunto culturali cosa prevede l'articolo 6 delle prescrizioni di massima quindi allora nell'ambito dei boschi chi vuole tagliare è sottoposto cioè deve praticamente procedere con un'autorizzazione che varia e diventa sempre più complessa ovviamente in base alla quantità di legname che uno vuole tagliare come è giusto che sia allora si parte da situazioni in cui vedete per tagli boschivi di piccole dimensioni per autoconsumo che sono inferiori ai 20 metri cubi nella fustaia o inferiore a 2000 metri quadri nel ceduo qua si intende come ripresa ovviamente planimetrica questi interventi in pratica non hanno necessità di alcuna specifica comunicazione anche perché evidenzia il fatto proprio dell'autoconsumo quindi non c'è immissione di legname nel mercato per cui potrebbero scatenarsi i vincoli del fatto della trasparenza e della tracciabilità del legname nel mercato per cui dire ah no tu stai commercializzando legno illegale perché non è autorizzato quindi i piccoli tagli boschivi esenti da qualsiasi tipo di autorizzazione e comunicazione valgono solamente ed esclusivamente per l'autoconsumo interno dell'azienda agricola della casa o di o di chi per essi insomma poi abbiamo una situazione intermedia che viene approvata tramite dichiarazione di taglio quando praticamente sono ci sono tagli che riguardano una quantità di massa inferiore ai 100 metri cubi in fustaia o ai due ettari e mezzo nel ceduo la dichiarazione di taglio ha una verità di due anni e in questo caso vale il silenzio assenso cioè l'autorità forestale a tempo 45 di giorni per eventualmente ribattere o dire esporre una qualche limitazione eccetera altrimenti il proprietario può procedere con il proprio intervento infatti la dichiarazione di taglio è compilata anche dal proprietario dal gestore del bosco quando invece ci sono interventi che riguardano quindi masse più alte dei 100 metri cubi o dei due ettari e mezzo il procedimento autorizzativo è il progetto di taglio comincia a essere un procedimento più complesso perché il progetto di taglio deve essere elaborato da un tecnico iscritto un tecnico qualificato iscritto all'ordine ha una validità di 4 anni è accompagnato molto spesso dal piedilista di martellata cioè dall'assegnatura delle piante che devono cadere al taglio e l'autorità forestale deve sempre approvare questo progetto entro i 90 giorni prescritti può essere approvato oppure corretto anche in questo caso ovviamente la risposta dell'autorità forestale serve a garantire la corretta gestione del bosco e poi abbiamo dei tagli in situazioni particolari dove per esempio indipendentemente dalla massa che si vuole asportare siccome sono legati proprio ad assicurare l'efficienza di infrastrutture oppure tagli in alveo per funzionalità idraulica e così via sono tagli che sono sempre possono essere presentati sempre tramite dichiarazione di taglio e in questo caso addirittura il periodo di silenzio assenso si riduce a 15 giorni proprio per il discorso emergenziale dell'autorizzazione e poi abbiamo la parte che riguarda l'intervento di piante che però sono morte o sono schiantate o appunto necessite cioè sono ripuliture deperienti e così via e in questo caso non c'è alcun titolo autorizzativo a meno che se riguardano l'autoconsumo ovviamente rientriamo nella casistica dei piccoli tagli se però è un legname che poi viene immesso per un qualche motivo sul mercato un po' come è stato per tutto il legname schiantato di vaia ovviamente lì ce n'era una quantità inimmaginabile e in questo caso allora diciamo che è stata richiesta è stata introdotta anche nelle prescrizioni di massima proprio un'altra tipologia di autorizzazione di presa adatto più che di autorizzazione che è la comunicazione di esbosco forzoso cioè il proprietario doveva comunicare all'autorità che procedeva sostanzialmente può procedere all'esbosco di questo materiale che di fatto non è più vivente per la maggior parte delle volte ecco il prontuario operativo è stata una manna dal cielo perché con il problema delle autorizzazioni nelle aree che ricadevano nella rete Natura 2000 ricordo le aree le zone speciali di conservazione le zone di protezione speciale a un certo punto insomma tra il 2016 e il 2017 c'era stato proprio il problema di dire non possiamo autorizzare ciascuna dichiarazione di taglio cioè comunque prendere atto delle dichiarazioni di taglio autorizzare progetti di taglio in queste aree a meno che non ci sia a meno che queste non siano accompagnate da valutazione di incidenza ambientale sarebbe stata una cosa improponibile soprattutto per i privati che presentavano la dichiarazione di taglio e quindi la nostra struttura ha portato avanti proprio l'elaborazione di questo prontuario operativo per interventi di gestione forestale un vero e proprio manuale manuale d'uso per il perfetto forestale se vogliamo dire che è stato sottoposto sono linee guida che sono state poi sottoposte a valutazione di incidenza ambientale e con esito positivo quindi è stato considerato il fatto che questi tipi di cantieri non provocano effetti negativi duraturi sull'ambiente il prontuario è stato poi nato per risolvere il problema dei reti natura 2000 delle aree ZSC e ZPS è stato comunque poi esteso come forma di tutela massima a tutto il territorio regionale quindi noi abbiamo un documento che consta di queste otto schede monografiche che parlano dei procedimenti autorizzativi di cui vi ho già accennato all'articolo 6 delle PM e PF ma poi ogni scheda cosa dice ok è la procedura di autorizzazione però ti dico anche la modalità di conduzione del taglio cioè in base quindi alle tipologie forestali che tu stai interessando al piano altitudinale questo è tutto riportato nell'articolo nel capitolo 3 del prontuario tu puoi adottare determinati interventi selviculturali se vuoi fare qualcosa di diverso da quello che è scritto nel prontuario che poi è stato recepito anche all'articolo 9 delle prescrizioni di massima tu lo puoi fare però devi fare la devi sottoporlo a valutazione di incidenza ambientale se tu operi entro questi limiti sei esente da vinca altrimenti potrebbe anche essere un intervento che l'autorità forestale ti approva ma è necessaria una valutazione di incidenza ambientale infatti ciascuna scheda poi entra nel dettaglio delle attrezzature e dei macchinari che vanno utilizzati a seconda del cantiere boschivo che tu vuoi aprire ti parla anche del periodo di intervento e delle limitazioni in base a quelle che sono le misure di conservazione per abita e specie che sono state adottate dalla delibera di giunta regionale 786 e poi successivamente anche modificate e integrate e molto importante anche la parte finale perché per ogni cantiere quando conduci un cantiere hai una serie di obblighi e raccomandazioni di vieti da rispettare in modo tale che tu dimostri che il proprietario insomma è tenuto a limitare per quanto possibile gli effetti negativi sull'ambiente questo era per dirvi le formazioni vedete sono quelle che abbiamo visto all'inizio distinte per piano altitudinale quindi il capitolo 3 del prontuario se volete vederlo dà indicazioni serviculturali specifiche in base alle tipologie forestali qui vabbè qualche foto insomma per farvi vedere la successione dell'arice sulla pecceta i lariceti le tipologie forestali che dicevamo no le fustaie di setane ad abete bianco e ad abete rosso del piano montano altimontano qualche ceduo ceduo di faggio e poi una fustaia invece a Carpineto con frasico che è tipica soprattutto della Valbelluna dove ci sono anche formazioni tipo ad aceri tiglieti cioè che proprio dimostrano che sono formazioni che si sono evolute a seguito proprio dell'abbandono dell'attività agricola allora questo per dire che vedo anche che il tempo sta arrivando a mi sto dilungando forse allora questo per dire che scusate mi sentite i principi della selvicoltura in Veneto quali sono il principio della sostenibilità è necessario sempre garantire cioè la gestione forestale sostenibile deve garantire l'uso delle foreste da parte dell'uomo l'uso perché comunque l'uomo le usa ma l'uso in modo e misura tali da mantenere nel tempo la loro biodiversità produttività capacità rigenerativa e vitalità quindi un uso che non vada a danneggiare il bosco ma che lo renda presente oggi e alle generazioni future secondo in principio importante è la multifunzionalità allora si è sempre parlato del bosco come un cioè come qualcosa che svolge molteplici funzioni la selvicoltura veneta fin dai tempi della serenissima che faceva le navi per venezia o i remi eccetera eccetera ha sempre adottato una selvicoltura di questo tipo dove non c'è una funzione non esclude l'altra quindi se vogliamo parlare di funzioni sono economiche ecologiche sociali i servizi ecosistemici di riferimento che attualmente diciamo sono quelli sono classificati in tre grossi gruppi a livello internazionale l'approvvigionamento che coincide con la funzione economica quindi produzione di legname legna da ardere funghi tartufi altri prodotti secondari del bosco eccetera eccetera i servizi ecosistemici di regolazione quindi le funzioni vecchie le funzioni ecologiche cioè assorbimento di carbonio contrasto ai cambiamenti climatici prevenzione del dissesto idrogeologico e così via e le funzioni culturali nell'ambito degli servizi ecosistemici culturali e quindi funzioni sociali troviamo il paesaggio l'attività di ricreazione nel bosco l'interesse turistico di attività outdoor eccetera eccetera e poi un altro principio importante il concetto proprio che i boschi devono essere resilienti la resilienza deve essere necessaria per questi popolamenti cioè in grado di contrastare i cambiamenti climatici e a maggior ragione diciamo anche di adattarsi ad essi qui abbiamo una foto tanto per farvi vedere di approvvigionamento gli elementi della politica forestale quindi possono essere riassunti in questi dieci punti che mi sono più o meno diciamo evidenziata mi sono evidenziata o sono comunque trasversali si possono trovare sia all'interno della legge forestale regionale che del regolamento attuativo per cui noi abbiamo sempre un divieto di taglio raso per superfici superiori ai 5.000 metri quadrati quindi è vietato il taglio raso vengono preferiti popolamenti disetaneiformi e di età diverse di età diverse e multispecifici rispetto a quindi adottare trattamenti che portano a formazioni coetane e monostratificate sia nell'ambito del ceduo sia nell'ambito delle fustaie addirittura il taglio nei cedui è regolato perché tu puoi intervenire in fustaia durante tutto l'anno il ceduo intervieni siccome la capacità rigenerativa delle ceppae deve essere mantenuta tu puoi intervenire con tagli in determinati periodi la ripresa cioè l'asporto di massa di massa legnosa è sempre inferiore all'incremento per cui noi non andiamo mai a tagliare di più di quello che è l'accrescimento del bosco addirittura la ripresa in Veneto si aggira in percentuali comunque piuttosto limitate perché è intorno al 30 40% dell'incremento ci sono vincoli di vieti limitazioni che trovate all'interno dicevo del regolamento c'è sempre una misura compensativa da adottare in caso di riduzione di superficie boscata e ultimo ma non ultimo in termini di importanza la formazione degli operatori una formazione professionale che è stata diciamo concretizzata nel 2020 riconoscendo proprio la figura dell'operatore boschivo e dell'istruttore forestale nell'ambito del repertorio regionale degli standard professionali una formazione che ovviamente consente la riduzione di incidenti sul lavoro ecco quindi va a tutela del lavoratore ma una formazione che serve anche a prevenire i danni sull'ambiente perché gli viene spiegato qual è la gestione corretta allora ultimo questo allora se sono stata abbastanza chiara finora il doppio vincolo imposto dall'articolo 136 cioè i boschi tutelati ai sensi decretati quindi e che rientrano nell'ambito dell'articolo 136 va allora gli interventi scusatemi gli interventi vanno sottoposti a autorizzazione paesaggistica interventi i tagli culturali nell'articolo 136 devono essere per forza di cose sottoposti ad autorizzazione paesaggistica questo ci dice il codice urbani e ce lo dice anche il dpr 31 del 2017 ma allora considerando tutto vi metto la pulce nell'orecchio considerando tutta la diciamo la politica di tutela adottata dall'autorità forestale che vi ho evidenziato finora che non fa non mette diciamo non considera boschi di serie A che entrano nel centro o boschi di serie B perché entrano nel 142 cioè il bosco è uniformato cioè ha la stessa valenza la stessa importanza indipendentemente quindi da dalle tipologie da dove non è cosa serve un'autorizzazione paesaggistica per i boschi che ricadono nel 136 ecco questa è una domanda che ci siamo sempre posti non solo noi della regione veneto come forestali ma ovviamente tutte le regioni d'Italia ed è così che abbiamo formulato una proposta di modifica al dpr 31 che tra l'altro abbiamo già presentato alla struttura competente di paesaggio a livello regionale dove si andrà a dire che sono esenti dalla inserendo diciamo questo punto A20 bis nel dpr 31 diciamo che devono essere esenti da autorizzazione paesaggistica anche i tagli culturali realizzati nel 136 perché se il cono visuale che rientra nel 136 ti dimostra un certo tipo di bosco un cono visuale che non rientra nel 136 per noi viene tutelato e salvaguardato tanto quanto questa proposta e quella successiva che diciamo solo ammettiamo l'autorizzazione paesaggistica solo nel caso in cui i tagli portino una cioè comportano uno spazio privo di copertura forestale superiore ai 5.000 metri quadrati quindi solo nel caso vengano autorizzati tagli raso questa proposta è stata presentata al ministero il MIPAF il MASAF come lo volete chiamare adesso si chiama MASAF comunque agricolo di sostenibilità agroalimentare forestale e la direzione foreste centrale sta portando avanti la presentazione di questa modifica anche al MIP e speriamo insomma che sia la volta buona che si riesca a portare una modifica di questo insomma DPR 31 ecco grazie per l'attenzione interrompo la condivisione perché volevo vedere in faccia eccomi qua grazie a tutti